Inno a Demetra di Antonella Barina, lo baris ne inè, presentazione. Una delle più imperdonabili e crudeli omissioni, perpetrate dalla dittatura patriarcale e i danni della nativa visione matrifocale e neolitica dell'antica Europa, è stata quella che riguarda la figura dell'anziana. A cominciare da Ecate, la nonna della trinità femminile, rappresentata da Ecate, Demetra e Persefone, una matrilinea che parte appunto dalla nonna e arriva alla nipote, la figura dell'anziana è stata corrotta e trasformata in dia della guerra o della magia, ma sempre con connotazione negativa, fino a scomparire del tutto nelle religioni androcentriche che hanno unito in una le due figure della fanciulla e della madre, ossia le uniche due funzioni femminili utili al patriarcato ai fini del piacere e della riproduzione. L'Obaris Neyne, al secolo Antonella Barina, poeta, drammaturga e editrice impegnata nel recupero della tradizione matrifocale dalle origini, ha recuperato nella sua riscrittura dell'inno a Demetra proprio la figura della nonna Ecate e per la prima volta nella storia della letteratura ha ricostituito l'originaria trinità femminile. L'inno a Demetra è il primo racconto noto della letteratura occidentale che parli di sequestro e violenza su una giovane donna, Persefone, Dea, figlia di Dea, rappresentazione della potenza generativa della natura, viene rapita e violentata dallo zio Ade, dio dell'oltretomba e fratello di Zeus, re dell'Olimpo patriarcalizzato, il quale, pur se padre della giovane, dà il suo consenso allo stupro. Madre di Persefone è Demetra, la madre terra. L'atto di violenza consumato in ambito strettamente parentale spezza narrativamente l'età dell'oro, che altro non è se non l'età contrassegnata da una gestione materna simbiotica con la terra. Un'età dell'oro rappresentata nell'inno a Demetra dalla magnificenza dei fiori e dei giochi delle giovani al momento del rapimento. Antonella Barina, lo Baris Neyne, ha riscritto l'inno a Demetra restando il più fedele possibile all'originale, ma cercando di restituire il senso genealogico femminile che lo caratterizzava in origine. Catalogato come pseudomerico, l'inno è stato variamente rimaneggiato nel tempo, soprattutto nella parte finale. Nella sua riscrittura l'inno presenta caratteristiche eccezionali. In primo luogo è straordinariamente libero da rivalità tra i personaggi femminili. Le protagoniste sono solidali tra loro e alla fine si rincontrano ricostituendo la sacra trinità iniziale. Secondo la visione dell'autrice, molti indizi fanno configurare l'inno a Demetra come sopravvivenza di un antico rito di passaggio femminile caratterizzato dal dono del melograno, simbolo di potenzialità creativa e di rinascita, dalla madre alla figlia che ha raggiunto l'età per riceverlo. Un sereno percorso di crescita della giovane, con il consenso della madre e la presenza delle anziane. Nell'inno, Ecate, la luna, compare sia all'inizio, nella funzione di aiutante di una Demetra angosciata per il rapimento della figlia Persefone, che alla fine, quando la figlia torna alla madre. Presente Ecate, i tre aspetti del femminile si reintegrano nel reciproco triplice incontro finale. Viceversa, in ambito patriarcale, il rito di passaggio viene trasformato in una violenta iniziazione sessuale gestita dal maschile. L'inno patriarcalizzato ribalta nel suo posto anche il simbolo del melograno, poiché in questa versione patriarcale i semi mangiati da Persefone sanciranno, per intervento e tranello maschile, il tempo della separazione dalla madre, Demetra. L'inno a Demetra racchiude in sé anche la relazione forte tra due donne legate dal medesimo sangue. Quest'inno insegna, inoltre, che la madre Terra, nucleo semantico del femminile e somma rappresentazione della femminilità, se offesa nelle sue manifestazioni più vitali, smette di dar frutto. Drammatiche e precise sono le pur brevi descrizioni che l'inno a Demetra dà dell'alterazione e dell'equilibrio dell'ecosistema, quando vengono turbate le leggi insindaccabili che regolano la produzione e la riproduzione degli esseri vegetali e animali. Il dolore di Demetra, la madre Terra, è universale e la sua potenza terribile. Di questo ci parlano gli antichi saperi, a proposito della violenza commessa su una giovane donna, così grave da mettere in predicato la sussistenza di tutto il genere umano. Ricercatrice scalza, si definisce Antonella Barina, avendo per oltre 40 anni, in piena libertà e autonomia, e sempre a sue spese, viaggiato e studiato il divino femminile. In questa versione riscritta, gli epiteti fastosi dedicati al padre Fedifrago Zeus, della versione pseudomerica, sono contestualizzati in modo da farne risaltare l'ironia. Estranea al testo originario è la richiesta di perdono da parte di Ade a Persefone, prima del ritorno di lei alla luce, necessaria per rendere credibile nell'oggi il ritorno periodico della giovane dea nel cuore della Terra, non più visto come il regno degli inferi. Il racconto, infine, si conclude dove Demetra e Persefone si ritrovano, e dove la genealogia femminile si riconosce e si ricostituisce nella benedizione dell'antenata Ecate. L'inno va riscoperto, e possibilmente riletto per approfondimento nelle sue diverse versioni, in quanto canto ecologico alla libertà femminile, alla forza delle donne, e alla restaurata relazione con la propria genealogia, in accordo, secondo l'autrice, con il lavoro sulle antenate svolto in questi anni da Devana, figlia di Liliana, la sottoscritta, e confluito nella Scuola delle donne, da me creata e diretta, e alla quale l'autrice consegna questo inno a Demetra per una diffusione nei canali della libera ricerca. Nell'estate del 2017 questa trascrizione è stata pubblicata sulle pagine del Paese delle donne online ed è dedicata alla madre e alla figlia dell'autrice, da Antonella, figlia di vita, madre di Mita. Da Devana, buon ascolto. Dei mondi che gli umani sono soliti narrare, vi è il mito in cui Ecate, Demetra e Persefone erano tra loro benigne e solidali. Questo era quando le comunità umane erano gestite dalle belle madri. A quei tempi il melograno era il dono che madre e figlia si scambiavano, al passaggio d'età, quando una tramonta e l'altra sorge come luna piena. Allora i parti erano assistiti dalle anziane, le sorgenti e le pietre erano sacre. Ma quando le leggi dei padri presero il sopravvento, venne tempo di guerra e sangue infecondo, scorse nelle piane a intristire fiumi e monti. Nessuno scampava, ogni aurora era funestata da nuove battaglie e comandava chi, in quelle battaglie, si era distinto per crudeltà e sete di dominio. Le giovani furono alla merce dei maggiorenti. In quel tempo intermedio le madri nulla potevano. Ma Demetra lottò con l'aiuto di Ecate e Luna per liberare la propria figlia, Persefone, che Ade, dio degli inferi, aveva rapito in accordo con il fratello Zeus, re dell'Olimpo, oltre che inqualificabile padre della giovane. Giove e Ade, i patricidi figli di Crono, agivano la legge maschia del potere, che nella distruzione rinnova se stesso. E il crimine attraverso cui questa legge si manifesta, viene coperto e sia giusta per la ragion di Stato che è complice l'occulta. Benedetti quelli che intendono il linguaggio dei fiori e non mettono le giovani alla mercè di gerarchie che ignorano la forza dell'amore. Benedette le non sottomesse che lottano per se stesse come per le altre e alla lunga vincono ogni battaglia intrapresa. Io canto la Dea dai cappelli magnifici, Demetra la Grande. Canto di lei e di sua figlia dalle belle gambe rapita da Ade. Cosa che l'oscuro, tonante, onnipotente Zeus permise, di nascosto alla Dea dei frutti e alla sua ascia fulgente, mentre Persephone, core, la fanciulla, giocava lieta e con le sue compagne coglieva nel prato rose in boccio e fiori di croco e viole profumate e iridi e giacinti e il Narciso, il quale per comando di Zeus tradì la giovane dagli occhi gentili che stava ammirando quel frutto della terra a tutti donato, un prodigio di fiore che incanta genti e dee, mortali e immortali. Dalla radice del fiore crescevano cento corolle espandendo un profumo irresistibile che arrivava al cielo e faceva gioire la terra e le onde salate del mare. Incantata, Persephone tese le mani per cogliere quel nuovo dono Ma la terra si aprì in una grande voragine nella pianura di Nissa nel cuore della Sicilia antica nel centro del mondo di allora e cavalcando cavalli immortali ne uscì colui che accoglie i morti il re degli inferi dai molti nomi Ade, re dell'Ade colui il cui nome non si pronuncia per timore di esserne catturati il figlio di Crono Ah, l'avesse il padre divorato allora quando temeva di essere spodestato la rapì traendola su un cocchio d'oro e la portò via anche se lei si dibatteva e piangeva gridando forte e chiamava in soccorso Zeus suo padre che dall'alto dei cieli l'aveva tradita l'ottimo e sommo Zeus fratello di Ade nessuno tra i mortali e gli immortali sentì quelle grida nemmeno i fastosi ulivi dai rami colmi di frutti né le giovani idee che erano con lei solo la potente Ecate la levatrice la più antica tra tutti gli dèi dal suo antro l'aveva sentita la limpida Ecate coperta di bianchi veli solo Ecate e il sole là in alto il sole figlio di Perione il titano solo loro udirono Persefone chiamare in vano Zeus suo padre che se ne stava seduto distante e tranquillo nel proprio tempio a ricevere le offerte con cui i mortali per timore lo omaggiano così Persefone fu rapita su cavalli immortali dal senza nome che ha molti nomi colui che accoglie e assoggetta Ade figlio di Crono rapita proprio per volere del grande Zeus che del glorificato Ade fratello eppur nell'angoscia Persefone aveva in cuor suo ancora la speranza di rivedere la cara madre e la stirpa eterna degli altri dèi sperò finché ancora scorgeva la terra e le stelle del cielo e il mare dai gorghi violenti e la luce del sole poi quando fu sottoterra alzò un ultimo acutissimo grido la sua voce immortale riecheggiò tra le vette dei monti e gli abissi marini e così fu udita dalla generosa Demetra sua madre un'angoscia furiosa invase allora il cuore di Persefone con le sue stesse mani la fanciulla si strappò i veli virginali e si coprì allora le belle spalle con un manto funebre con ali di uccello core cercò di trovare una via di fuga ma nessuno tra gli dèi e i mortali dette notizia del rapimento e dagli uccelli non le giunse alcun augurio di salvezza a quel momento per nove giorni la sovrana madre Demetra percorse la terra cercandola con impugno le sue fiaccole infuocate la signora del grano e dei papaveri per cercare la figlia non una volta si nutrì di Ambrosia né si ristorò di nettare e neppure si immerse in lavacri quando Demetra vide sorgere la decima nitida aurora Ecatele venne incontro reggendo anche lei una grande torcia cercando il coraggio e la voce per dirle quanto era avvenuto Demetra tu che sei dono d'estate e sovrana ricca di doni chi tra gli dèi dell'Olimpo chi tra i numi chi tra i mortali ha rapito Persefone e tanto tristemente ha colpito il tuo cuore io Ecate ho sentito Persefone gridare ma non ho visto chi sia stata a rapirla posso solo darti conferma che è vero così disse Ecate e Demetra non proferì parola ma subito stringendo le fiaccole nel pugno contratto si pose al fianco di Ecate e insieme giunsero fino al sole che illumina uomini e dèi ritta davanti al suo cocchio Demetra la splendida chiese al sole sole serbami il rispetto dovuto a una dea se mai prima d'ora mi hai amato profondamente per le mie parole o gli atti del mio animo il dolce germoglio che ho partorito la mia luminosa figlia si si nell'aria e il figlio e il figlio di Perione le rispose sinceramente Demetra sovrana madre e figlia di te stessa ti dirò ogni cosa a te porto il rispetto che si deve a una dea e di te ora ho pietà sei in angoscia per la tua figliola dalle snelle caviglie e nessuno tra gli immortali se non suo padre Zeus padrone delle nubi ne ha colpa lui è stato ad offrirla ad ade al suo regno per farla sua sposa quel suo fratello di sangue l'ha trascinata via sul proprio carro nel buio cupo delle nebbie l'ha presa anche se lei urlava forte dea frena l'amarissimo pianto è inutile l'immenso rancore che ti consuma tra tutti gli dèi a quell'ade che molti ha soggetta tu stessa sei legata da vincoli di sangue e ti ha congiunto pensaci perché rischiare presto ade potrebbe non essere per te un genero indegno ade gode di grandi onori da quando all'inizio tutto fu diviso in tre parti a lui è toccato in sorte il mondo dei morti su cui ora regna sovrano ci ho detto e il sole incitò i suoi cavalli e questi come uccelli dalle ali tese rispondendo al suo ordine svelti ne trassero via il carro al galoppo un dolore ancora più atroce un morso di cane scese nel cuore di Demetra odiando Zeus il cronide il sovrano delle nuvole nere la dea si allontanò dal concilio degli dèi rinnegò l'alto olimpo e andò errando di città in città attraversando i continenti da allora nascondendo la propria bellezza alle genti chi la incontrava non vedeva più la stupenda dea che era stata giunse così a Deleusi nell'attica d'occidente nei pressi della casa di Celeo il quale a quei tempi era il generoso sovrano della città che odora di incensi continuando a macerarsi nel cuore Demetra fece sosta dove la gente attingeva l'acqua che sgorgava da una sorgente sopra un grande albero di olivo al Pozzo Partenio consacrato dai canti delle vergini e lì si sedette aveva assunto sembianze di donna avanti negli anni ben lontana dai doni amorosi dell'inghirlandata dea l'amica Afrodite così i principi che diventeranno fonte di legge a volte si rivelano a chi è giovane come da balie che li dispensano in ecchi di memoria lì la incontrarono le figlie di Celeo re di Eleusi venute alla fonte per raccogliere l'acqua in brocche di bronzo da portare alle case quattro giovani belle come fiori appena sbocciati belle come idee Callidice Ecclesidice Demo la Mata e Calliroe la maggiore di tutte non riconobbero Demetra non è facile ai mortali riconoscere il divino la vicinarono pronunciando parole che volavano nell'aria come farfalle vecchia chi e di dove sei di quale gente chi sono le antenate tue perché resti lontana dalla città e non ti avvicini alle case da noi le donne della tua età e di altra età abitano assieme in stanze ospitali saresti accolta volentieri tra di loro con parole e gesti di amicizia la dea sovrana parlò rispondendo alle figlie dice Leo io vi saluto chiunque voi siate figlie che vivete tra le donne a voi racconterò quello che non è sconveniente narrare dato che me lo chiedete il nome che mi dette mia madre è Ga vengo da Creta sono stata portata qui via mare contro il mio volere costretta a forza da predoni giunti in nave a Torico d'Attica come un greggio e fecero scendere le donne che tenevano prigioniere affinché quelle preparassero un pranzo vicino agli ormeggi di poppa per quanto invitante io non presi parte al banchetto ma balzai a terra e fuggì da quei superbi padroni perché non volevo che avessero da guadagnare vendendomi schiava senza avermi comprata vagando sono arrivata fin qui ma di questa terra non so nulla né che terra sia né chi ci vive ora augurandovi che gli dei abbiano in servo per voi un futuro di spose soddisfatte e madri di prole riconoscente vi supplico di dirmi da amiche se c'è una casa che mi possa accogliere sono disposta a far lavori adatti a un'anziana come culare una creatura o farle da balia custodire la casa preparare il letto alle padrone o addestrare al lavoro le giovani donne così disse la dea che aveva scelto di presentarsi loro con il nome più antico della terra ga callidice la vergine più bella tra tutte rispose prontamente nonna cara pur con angoscia tutte e tutti dobbiamo sottostare al volere degli dei che sono molto più forti di qualunque umano ma io ti dirò con chiarezza i nomi di tutti coloro che governano la città quelle e quelli che tra il popolo spiccano perché con i loro consigli profondi e con le loro giuste sentenze custodiscono le nostre tradizioni vi è Delfina alla quale si rivolgono i saggi quando devono decidere vi sono Aracne che insegna a tutte la tessitura Amaltea che conosce i segreti del latte Dionisia che governa i tempi dell'uva e tra tutte noi a portare il riso con le sue parole e i suoi motti via la saggia Baubo saggio e ingegnoso e poi Tritolemo e colui di Oclepolisseno impeccabile è Eumolpo ci sono Dolico e il nostro nobile padre Celeo le donne lavorano in casa e la custodiscono e nessuna di loro quando ti vedrà disprezzerà il tuo aspetto o ti caccerà via anzi ti riceveranno perché assomiglia a una dea davvero resta qui dunque se vuoi spiegheremo ogni cosa con cura a nostra madre Metanira e lei ti inviterà nella nostra casa senza cercarne un'altra in quel confortevole palazzo nostra madre sta crescendo il suo ultimo nato da lei tanto sperato e atteso con gioia se saprai assistere questo suo figlio prediletto e farlo crescere bene la ricompensa che ne riceverai ti renderà invidiabile da ogni donna così disse Callidice e la dea fece un segno di assenso con il capo allora le giovani felici riempirono i vasi di bronzo e li portarono a casa dove subito spiegarono ogni cosa alla loro madre Metanira la quale ordinò che corressero a chiamare la nuova ospite cosa che le giovani fecero subito correndo come cerbiatte nella stagione di primavera quando sono sazi e felici per avere ben pascolato correndo tenevano le vesti sollevate sul sentiero accidentato e i capelli ondeggiavano sulle loro spalle come petali di fiore di croco nei prati mossi dal vento trovarono Demetra dove l'avevano lasciata e condussero verso casa la dea con il capo velato avvolta nel suo fluttuante e nero peplo giunte alle proprietà di Celeo fedele di Zeus traversarono il portico Metanira era seduta vicino al pilastro centrale della dimora con in braccio il suo nuovo piccolo fiore attorniata dalle giovani la dea si presentò alta sulla soglia toccando la porta con il capo riempiendola di splendore in Metanira in Metanira quella visione suscitò rispetto stupore e uno strano terrore tanto che si alzò dal proprio trono e invitò la dea a sedersi al suo posto Demetra la donatrice di Messi la ricca di doni che dona ricchezza non accettò però di sedersi su quel trono fulgido ma rimase in silenzio tenendo i begli occhi abbassati finché Baubo colei che dona il sorriso non le porse un sedile sul quale aveva steso una candida pelle la dea si sedette continuando a celarsi con il velo serrato nella mano e lì rimase continuando a tormentarsi muta ferma sempre senza parlare senza sorridere senza accettare cibi o bevande pensando alla figlia perduta e questo finché la saggia Baubo non le si rivolse con motteggi e battute forzandola prima a sorridere e poi costringendola a riso ridandole e così quella letizia d'animo che la dea aveva dimenticato per questo da allora e per sempre Baubo e cara a Demetra che la tiene amatissima nel cuore allora Metanira le offrì un calice di vino mielato ma la dea rifiutò perché disse non le era consentito bere vino rosso chiese invece da bere dell'acqua mescolata a farina con l'aggiunta di diverse erbe che alcuni dicono essere malva altri orzo altri menta e altri erbe dei sogni Metanira mesce quello che la dea aveva richiesto e glielo porse così accettandolo Ga la terra la sovrana Demetra sancì il proprio rito fra tutte poi parlò Metanira la madre dalla bella vita sottile salute a te donna non credo che tu sia nata da gente qualunque perché i tuoi occhi irradiano quel rispetto e quella nobile grazia che sono proprie delle stirpi regali pure tutti e tutte dobbiamo purse con angoscia sottostare i capricci degli dei questo è il gioco che abbiamo sul collo ma fra di noi tu avrai tutto quello che ho anch'io tu alleverai il bambino che ho avuto quando avevo smesso di sperare è venuto e lo amo sopra ogni cosa se saprai allevarlo e farlo crescere nel modo migliore la mia ricompensa sarà tale che ogni donna ti invidierà e Demetra la dea delle ghirlande rispose a metanira donna salute anche a te che gli dei ti siano propizi seguirò al meglio tuo figlio come mi chiedi lo alleverò e nessun maleficio o erba maligna potrà nuocergli perché conosco una cura più forte di ogni veleno che a qualsiasi maleficio pone valida difesa detto ciò accolse il bimbo in braccio appoggiandolo al suo seno profumato e la madre ne fu lieta così Demetra cominciò a educare nel palazzo il bellissimo bimbo di nome Demofonte partorito da metanira la bella figlio di Celeo e la creatura crebbe senza bisogno di mangiare pane o bere latte perché Demetra ga lo ungeva di Ambrosia come fosse un figlio divino e respirava su di lui stringendolo al petto in più di nascosto alla madre e al padre di notte lo esponeva alla calda forza purificatrice del fuoco sopra cui lo teneva come fosse un tizzone ai genitori parve un prodigio il crescere precoce del figlio che aveva l'aspetto di un dio Demetra l'avrebbe reso immortale immune alla vecchiaia se per disgrazia non trovandoli a letto una notte Metanira non l'avesse spiata temendo per la vita del figlio gettò un grido e si batte ai fianchi disperata e piangendo disse natamente turbata nel profondo disse di getto Demofonte figlio mio che fa questa straniera ti immergi in un gran fuoco e mi getta nella disperazione e nella pena disse così lamentandosi e quelle parole prive di fede furono udite dalla dea grande sorse in Demetra la collera contro colei che aveva interrotto la cura con le sue braccia immortali spinse lontano da sé il piccolo nato oltre ogni speranza e adirata ne rimproverò con rabbia la madre umani umani privi di senno incapaci di prevedere la sorte che vi attende nel bene e nel male tu incapace di fiducia tu nei miei confronti hai sbagliato mi siano testimoni le acque dell'infero stige su cui noi dei giuriamo io tuo figlio l'avrei reso immortale immune per sempre da vecchiaia e per tutti i suoi giorni gli avrei dato infiniti privilegi ma ora ora non potrà più sfuggire agli artigli delle chere i potenti spiriti della morte demofonte avrà tuttavia per sempre l'onore infinito di aver riposato sulle mie ginocchia e tra le mie braccia a lui sentenziò dedicherete le feste e i giochi nei quali i giovani di Eleusi si affronteranno ogni anno io sono la luminosa e onorata Demetra quella che dispensa gioia e supremo conforto a mortali e immortali concedo al tuo popolo di erigere un grande sacrario e un'ara a me dedicati vicino alla rocca e alle mura di Eleusi sulla collina sopra la fonte Callicora sarò io a insegnarvi io in persona i miei riti in modo che in futuro li celebriate degnamente per continuare a placare la mia ira e salvarvi alla fine di questo pronunciamento la Dea mutò di statura e figura svestendosi della forma di vecchia e manifestando la propria bellezza intorno si diffuse la fragranza delle essenze di mille e mille fiori e il suo corpo immortale si illuminò di luce radiosa biondi capelli le si allungarono folti fino alle braccia e come colpita da un fulmine la casa si riempì di quella scintillante inaspettata visione di luce Demetra uscì dalle sale del palazzo intanto la povera metanira sentiva venirle meno la forza alle ginocchia rimase a lungo impietrita dimenticando perfino di sollevare da terra il suo bimbo prediletto furono le sue figlie le sorelle svegliate dai pianti del piccolo ad accorrere ed una lo prese tra le braccia stringendolo al seno l'altra ravvivò il fuoco la terza accompagnò la madre a letto vivificandolo di essenze affollandosi intorno con ogni cura lavarono il bimbo scalciante ma il piccolo non smetteva di piangere perché non c'era paragone tra loro e quella che gli era stata fino a poco prima balia e nutrice per tutta la notte le giovani cercarono di placare la dea gloriosa che la loro madre non aveva saputo riconoscere e tremavano di terrore quando sorse l'aurora andarono dal padre celeo annunciandogli quello che la dea delle ghirlande aveva comandato il potente celeo chiamò allora in adunanza tutte le genti del suo popolo e ordinò la costruzione di un magnifico santuario e che fosse eretta un'ara sulla collina sopra callicora dedicati a Demetra dalle splendide chiome il popolo ascoltò celeo e gli obbedì poi quando ebbero concluso quella fatica ciascuno tornò alla propria casa avevano eretto il nuovo tempio che sorse magnifico in onore a Demetra la dea vi entrò e prese posto lontana da tutti gli altri dei perché non cessava in lei l'angoscia per la bella figlia che le era stata rapita quell'anno la terra che tutti nutre fu spaventosamente sterile e non rilasciò alcuna semenza per l'anno a venire poiché per il dolore Demetra nascondeva ogni seme dentro di sé senza lasciarlo germogliare in vano i buoi trascinavano su e giù per i campi gli aratri ricurvi i semi del candido orzo cadevano a vuoto nei solchi senza dar frutto la stirpe degli umani già per sorte destinati alla morte moriva di fame e gli dei non potevano così ricevere in dono altre offerte e doni propiziatori allora solo allora Zeus prese atto di quanto avvenuto e cercò di rimediare chiamando Iride la signora dell'arcobaleno la messaggera dalle ali dorate affinché andasse a parlare con Demetra la splendida Iride obbedì al signore delle nuvole nere a Zeus figlio di Crono e raggiunse la rocca di Eleusi da dove si alzava il profumo degli incensi e trovata nel sacrario Demetra ancora avvolta nel velo del lutto disse l'onnipotente Zeus ti chiama Demetra vuole che ti presenti al cospetto delle schiere dei numi immortali vieni non ignorare il suo ordine Iride pregò Demetra di ascoltare Zeus ma non riuscì a convincerla allora il re degli immortali mandò da lei tutti gli dei e ognuno di loro uno dopo l'altro portavano grandi magnifici doni e la supplicavano di accettarli ma nessuno riuscì a piegare il suo cuore e la sua mente l'Adea era tanto adirata e triste da spregiare ogni loro consiglio l'Adea delle ghirlande e della vita della terra ripeteva che mai più sarebbe tornata ad annusare gli incensi dell'Olimpo mai più la terra avrebbe ridato frutti se non avesse potuto rivedere con i suoi occhi la sua bella figlia adorata che era stata rapita da Ade allora Zeus il cupo dio dei tuoni vide e capì il proprio sbaglio e decise di inviare nell'erebo nel buio profondo e primordiale nel regno delle ombre il proprio figlio Hermes l'uccisore di Argo il gigante dai cento occhi affinché il messaggero dal bastone d'oro coronato di serpenti trovasse le parole per convincere Ade a riportare Persefone alla luce traendola dalle tenebrose nebbie di cui era prigioniera in modo che la madre Demetra potesse vederla con i suoi occhi e cessasse l'ira implacabile che aveva votato il mondo a una carestia senza fine Hermes acconsentì pronto a quella nuova missione e partì dall'Olimpo per scendere subito in un baleno nelle profondità oscure degli inferi il messaggero trovò Ade nel suo palazzo comodo sul suo trono con vicino Persefone che non smetteva di invocare la madre Demetra la quale da distante continuava a maledire tutti gli dèi meditando vendetta avvicinatosi al trono il messaggero dalla verga d'oro disse Ade signore dalle nere chiome che domini sovrano il regno dei morti il padre Zeus tuo fratello ti ordina di liberare dal buio la lucente Persefone e di ricondurla presso i celesti così che sua madre Demetra la veda con i propri occhi e con doni agli immortali l'aver scatenato la sua collera l'ira inesorabile per la quale ha deciso di estinguere le stirpi degli umani in modo che nessun dio o dea riceva mai più da loro offerte ed onori un'ira tremenda è in Demetra non vuol più sedere tra gli dèi e in disparte dimora in un nuovo tempio odoroso di incensi che si è fatta costruire sull'impervia fortezza di Eleusi così disse Hermes messaggero di Zeus e Ade il re degli estinti nascose la contrarietà in un sorriso e assecondò il comando di Zeus si rivolse a Persefone dicendole Demetra è avvolta nei veli del lutto Persefone puoi tornare da lei ma se rimani qui dominerai tutto ciò che abita il profondo buio riceverai onori da tutti gli altri dèi mai più qualcuno potrà offenderti saranno duramente puniti coloro che non placcheranno la tua ira con offerte coloro che non celebreranno con i doni dovuti Persefone figlia di Demetra la potente Demetra ora ha Giove dalla sua parte e se decidi altrimenti io nulla posso contro di lui ignoravo che neanche agli dèi è dato offendere la madre terra da qui io chiedo perdono a te e alle tue schiere non so se varrà a salvare l'umanità dall'incubo in cui è precipitata se puoi non odiarmi conserva sereni il cuore e la mente così disse Ade e Persefone Core gioia all'idea di poter tornare dalla madre prima che partisse Ade la pregò di accettare qualche chicco di melagrana e questo parve a Persefone segno di pacificazione da parte del dio dei morti la figlia di Demetra addentò il frutto e presto lo posò impaziente di partire ne aveva ingoiato solo pochi chicchi ignara di cosa significasse allora Ade sorrise Ade che tutto assoggetta aggiogò i cavalli immortali al suo cocchio d'oro e Persefone vi salì mentre Hermes al suo fianco prese in mano le briglie il carro d'oro uscì in volo dal palazzo e la giovane dalle belle chiome con Hermes lasciò il regno di Ade non andarono per mare né attraverso i fiumi le valli o le selle dei monti ma sfrecciarono tagliando il cielo profondo al di sopra delle montagne Hermes con vicino la dea che infonde vita alle piante gioiva il cocchio li portò dove Demetra la dea dei papaveri li attendeva davanti al sacrario di Eleusi odoroso di incensi vedendo la propria figlia la dea si slanciò verso di lei con entusiasmo di menade che corre nei boschi per sefone per sefone incrociati gli occhi della madre lasciò il carro e a sua volta di corsa si gettò al collo di sua madre stringendosi a lei ma Demetra mentre finalmente stringeva la figlia tra le braccia percepì un inganno e presa da tremore sciolse l'abbraccio guardando la figlia negli occhi la interrogò con queste parole figlia mentre eri laggiù non avrai toccato cibo non nascondermelo parla dobbiamo sapere quello che ci aspetta se non lo hai fatto tornata quassù vivrai per sempre lontana dall'ade altrimenti per un terzo dell'anno tornerai là sotto nel regno degli inferi ad accogliere con il potere della rinascita i morti che discendono a te io senza di te in quel tempo non darò frutti alla terra spopolerò i prati dei fiori celando i semi che solo al tuo ritorno germoglieranno per i due terzi però resterai comunque con me quando tu tornerai dalle cupe nebbie dell'erebo la terra si riaprirà in fiori odorosi di primavera i semi germoglieranno per la gioia dei mortali ora dimmi ciò che temo ade colui che ti ha rapito ti ha offerto del cibo prima di lasciarti tornare e alla madre rispose sincera Persefone la stupenda figlia di Demetra si madre certamente ora ti racconterò tutto il vero che mi chiedi quando Hermes è venuto per ordine di Zeus a riscattarmi dall'erebo affinché io tornassi da te e tu potessi di nuovo vedermi con i tuoi occhi perdonando gli dèi e ponendo fine alla tua collera ero stordita di felicità è stato allora che ade nel chiedermi di perdonarlo mi ha offerto un frutto di melagrana e io ne ho accettati alcuni chicchi appena un morso ho sbagliato madre ade era così diverso mentre chiedeva perdono era lo stesso ade quello che mi aveva gettato sul cocchio per rapirmi e quello che preparava il cocchio d'oro per lasciarmi partire Demetra la madre non disse nulla perché nessuna né donna né dea ha un rimedio sempre valido di fronte alla doppiezza dei figli di Zeus Tacque la dea delle ghirlande e il suo silenzio era tremore di monti e valli non disse nulla perché i mari si innalzano alti sopra le coste a prescindere dai torti e dalle ragioni degli dèi e degli umani e non voglio offuscare con ciò che sapeva il futuro di Persefone Tacque Demetra era lieta di non aver perduto per sempre la propria figlia ora disse Persefone ti dirò come Ade mia rapita ti narrerò ogni cosa ero con le mie compagne nel mezzo di un prato stupendo con me c'erano Leucippe Fenò Elettra Iante Melite Iache Rodea Calliro Melobosi Sorte Ociro e dagli occhi gentili Criseide Ianira Acaste Admete Rodope Plutò Calipso Stige Eurania Galassaure Palla De Artemide Giocavamo e io godevo del profumo e del colore dei fiori mischiavo al croco le iridi i giacinti le corolle di rose i gigli e il narciso che ho colto per ultimo in quel momento la terra si è spalancata ed è apparso Ade mi ha portata via sul suo carro mentre io gridavo senza che nessuno potesse soccorrermi questa è la verità madre mia seppur con angoscia te l'ho raccontata per tutto il giorno si confidarono dandosi conforto e rincuorandosi circondandosi di cure entrambe madre e figlia guarirono da ogni angoscia l'una e l'altra ebbero sollievo e l'una all'altra donò gioia e la ricevette poi venne Ecate la luna cinta da chiari veli e stette con loro benedicendo Persefone Core la fanciulla nata dalla splendida Demetra liberate la notte e il giorno disse Ecate e non abbiate più segreti né cose da tacere o confessare abbiate la trasparenza dell'acqua e la forza del fuoco non più inferi nel cuore della terra il mondo corrisponda al vostro cuore e il vostro cuore al mondo nessun dio o umano vi possa più molestare custodite in voi il mistero del seme e la bellezza delle stagioni da allora Ecate è per sempre guida e compagna di Persefone fine